Ciao bambini, mi chiamo Ugo e questo è il mio canale UGO KIDS TV Oggi andiamo alla conoscenza di 42 diversi tipi di frutti Siete pronti bambini? Eccoli che arrivano! Arancia Mela Banana Uva Pera Pesca Ciliegia Sala Fragola Mirtillo Cocco Mangostano Amla Jackfruit Albicocca Mora Mango Cantalupo Cantalupo Pitaia Mirtillo Durian Fico Fico Pompelmo Guava Lime Limone Limone Pomelo Pomelo Melone Papaya Papaya Frutto Della Passione Kiwi Kiwi Longan Ananas Pesca Pesca Prugna Plitki Mello Mello Grano rambutan lampone carambola sapodilla anguria tamarindo vi aspetto al prossimo video non mancate